Sono partiti da pochi giorni i saldi invernali in tutta la regione Campania. Noi di Italia 2 abbiamo fatto un giro tra i negozi del Vallo di Diano per ascoltare le prime impressioni delle persone a riguardo. Sono qui per acquistare dei regali per i miei ragazzi e poi ho un quarantesimo e allora approfitto anche pochi saldi, ancora il 20, il 30%, però ne approfittiamo. Aspettano i saldi non solo per il proprio abbigliamento ma anche per qualche regalino o qualche altra cosa di utile, magari per i figli. Tendenzialmente cerco di non acquistare in periodo di saldi perché credo che sia antietico e che quindi acquistare in un periodo di saldi non fa altro che spronare il consumatore ad acquistare in modo compulsivo cose che principalmente servono poco. Anche il sindaco di Sassano approfitta dei saldi per farsi qualche regalo. Beh diciamo che la formula del saldo è eccezionale perché incoraggia a farsi il regalo e a fare i regali perché in questo momento in particolare bisogna soprattutto fargli i regali. Cosa vi piacerebbe acquistare? Beh soprattutto l'abbigliamento, quello che diciamo che con i saldi va più di moda e poi queste sono le scarpe, borse, questo è.